Allora Linux Day, iniziativa che con il patrocinio del comune organizzata per sabato 25 ottobre è la prima iniziativa di questo genere. Linux Day, Linux, che devo rientrare, è un punto rientra in tutto questo, software libero. Praticamente anziché pagare il software, mi sembra molto corretto i tempi come questi, far sì che si utilizzino questi software free che sono ottimi, o ne ho provati qualcuno, devo dire che funzionano, se non come gli altri a volte anche meglio. Per cui mi sembra un'ottima idea questa sensibilizzazione che viene fatta ai cittadini proprio per dimostrare che esistono prima di tutto perché non tutti conoscono secondo me questi prodotti e dimostrare che oltre ad esistere funzionano, secondo me questo è l'altro aspetto vincente. Quando si parla di Linux si parla del sistema operativo sul quale poi opereranno tutta una serie di software che basati su questo sistema operativo diventano attivi e danno questa azione molto importante. quindi saremo piazza dei pesci, piazza dei pesci, a partire dalle ore 19, quindi dalle 15 alle 19. Se posso dire abbiamo un sindaco nerd, perché ne sa più di me, quindi perdonate la battuta. È sempre uno Smartatt. Tech Ma questo è il sistema operativo? Beh, vedeteli se posso dire.. C'era sempre uno Smart Steek per cui Smart, premai. Sì sì, te lo sentivo è Smartatt. Ti lascio. Grazie Grazie